Benvenuti nel terzo video vlog di Cuba. Siamo a Havana, ho trovato anche una guida turistica che parla anche italiano, si chiama U-Nike e abbiamo preso un taxi cubano, ho speso due CUC, che sarebbero meno di due euro andare e meno di due euro tornare. Abbiamo deciso di prendere un colce per fare un piccolo giro turistico. Questo è il Capitolio della Havana, questo è una replica di Washington. Questo è il Capitolio che fa 5 anni di restaurazione. Finita la restaurazione è il Parlamento di Raul Castro. Fabbrica antica di cigarro? Fabbrica antica di cigarro Partagas, qui attra, è la che abbiamo. Fabbrica di cigarro Partagas, ok? Partanaz? Partanaz. Partanaz, il nome? Fabbrica antica di cigarro Partanaz. Fabbrica antica di cigarro Partanaz. Partanaz, ok? Fabbrica antica di cigarro Partanaz, ok? Fabbrica antica di cigarro partano, è raffinato, è un portanaz. Il hotel non soldi, non è gratis. È gratis. È una stazione di polizia. Ah, è essa! questa è la entrada della catedral della Havana la catedral della Havana? esattamente questo è Antonio Gales, molto amico di Fidel Castro ballerino del flamenco come questo è solo un ciccio eh non è quello vero ma è un'imitazione cioè non andiamo sai dove alla botellita in medio quello è un centro turistico magnifico eh tutti i turisti vanno lì a vedere a vedere Mojito la botellita in medio la botellita in medio la botellita in medio in medio esattamente lì lì vamo a vedere Hemingway o le mandato di Fidel Castro lì vamo a vedere lì vamo a vedere Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' arrivata la servessa? Abbiamo fatto un po' di siesta. Dov'è che andiamo ora? Un mercato commerciale. Andiamo in un mercato commerciale. Andiamo compagneros? Andiamo. Questo mercato per i turisti enorme e non si riesce ad andare avanti perché ogni momento qualcuno ti ferma. Ciao amici. Andiamo. Andiamo. Ciao. Andiamo. 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 Andiamo qua di fronte alla fabbrica della servessa. Sarebbe là? Che antiguamente erano del tabacco anche. Anche del tabacco? Anche del tabacco. Andiamo. 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 Andiamo Andiamo. Terzo video di Cuba terminato, video riguardante L'Havana Ci vediamo nei prossimi video di Cuba Dove magari farò ancora qualcosa riguardo alle zone più povere La zona cosiddetta Corea Con mio zio e gli altri suoi amici Ci vediamo nei miei prossimi video vlog Mettete mi piace e commentate Iscriviti! Iscriviti ora se non l'hai già fatto! Ah, colco l'occasione per salutare una mia carissima fan piccola che mi segue Che si chiama Emily Ciao Emily! E il mio amico di Cuba Non di Cuba, cioè cubano Ma che vive in Italia Che si chiama Dayan Ciao Dayan! Subscribe, subscribe now Abbiamo trovato un nuovo fan del mio canale Si iscrive, il mio canale è CUPARI Quindi saluto a tutti i miei fan di CUPARI Hola, tutto qui con un amico CUPARI CUPARI Grazie a tutti i miei fani di CUPARI